Ciao a tutti, questo breve video per parlare di Luca e Tino, Lucchettino, Luca Regina e Tino Fimiani, una coppia di comici, di grandi comici. Luca e Tino sono due geni della comicità e alcuni di voi che vedete questo video lo sanno già perché magari lo vedete nel profilo di Lucchettino. Ma magari altri invece non lo sanno. Cosa dire? Luca e Tino, il duo Lucchettino festeggia trent'anni di attività. Trent'anni di attività sono un traguardo straordinario, ma Lucchettino sono una copia di comici che sanno far ridere, sanno far ridere chiunque da 0 a 110 anni, belli o brutti, colti o ignoranti. Lucchettino hanno il dono della comicità basata sulle cose più semplici, che è la più difficile, io credo. Lucchettino non fanno ridere con monologhi arguti, non sono comici alla George Carlin, grandissimo comico americano scomparso. Lucchettino fanno ridere con gag comiche e di magia comica, con il contrasto, il contrasto fra i due personaggi che hanno un modo di porsi, una plomb, un tono molto diverso l'uno dall'altro. Quindi è un ingrediente assolutamente elementare e antico, è uno degli ingredienti di Sancho Panza e Don Quixote. Beh, non è facilissimo far funzionare questo contrasto. Lucchettino lo sanno far funzionare benissimo. E poi Lucchettino sono due maestri nel movimento corporeo, nella mimica facciale, nel senso del ritmo e del tempo. In tutte queste cose hanno iniziato, hanno iniziato da giovani con molta passione, molta voglia, molto genio, molta libertà e fantasia e molto studio e lavoro, perché tanti non immaginano quanto si debba lavorare per mantenersi artisti capaci di incontrare, di creare il rapporto col pubblico sempre. E nel comico, fra l'altro, il rapporto col pubblico spesso ha necessità di capacità di contatto, rapidità, senso del tempo, maggiori che in molti altri generi. La sto facendo lunghissima, in termini quasi oltraggiosi e sbagliati. E quindi andiamo a chiudere. Io vi raccomando quanto sia importante e bello ridere. Ridere. Ridere fa bene. Se ridi molto non ti ammali. Se ridi molto rendi il mondo migliore. Lucchettino rendono il mondo migliore da 30 anni. Io gli auguro di continuarlo a farlo per altre tre volte 30 anni. Lo auguro a loro e lo auguro al loro pubblico e a questo mondo. E sta per arrivare l'estate. Lucchettino lavorano molto giustamente, come i grandi artisti spesso fanno perché la gente li cerca. Andatevi a cercare quando il duo Lucchettino si esibirà vicino a casa vostra. Oppure programmatevi una bella vacanza, un bel viaggio, per andarvi a vedere Lucchettino in una delle belle città in cui sicuramente si esibiranno. Tutto qua. Grazie.